Sara Toscano è nata una stella. Ieri la finalissima di Amici 23 ha visto trionfare la cantante di Sexy Magica. La vittoria di Sara è stato il coronamento di un lungo percorso compiuto dalla giovane artista arrivata da Vigevano ai Provini all'interno del talent show di Canale 5. Prima di venire qui non aveva mai preso una lezione di canto, ha ricordato la sua professoressa Lorella Cuccarini. La proclamazione del vincitore di Amici 23 è stato un momento fortissimo ed emozionante. Quando sul maxischermo è apparsa la carta con il suo nome, Sara è apparsa incredula. L'altra finalista, Marisol Castellanos, l'ha abbracciata a lungo, poi Maria De Filippi ha chiamato Sara vicino a sé, guarda che sei tu la vincitrice. Sara ha alzato la coppa al cielo mentre il pubblico gridava il suo nome. Durante la serata della finale la giovane cantante, Sara ha solo 18 anni, aveva ricevuto moltissime critiche positive dai giornalisti, avrai un futuro grandissimo. Lei ha spiegato che al momento intende sperimentare tanti generi di musica diversa, senza focalizzarsi su un unico stile. Poi Sara ha confessato di avere un modello a cui si ispira apertamente, la cantante regina del pop Dua Lipa. Mi piace come artista e poi mi piacciono le sue esibizioni, dove c'è la cantante che interagisce con i ballerini, mi piacerebbe continuare a fare questo. Subito dopo la puntata Sara ha rilasciato alcune dichiarazioni. Sto ancora realizzando cosa sia successo, ha detto Sara in lacrime abbracciando il trofeo, essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui. Sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta. In lacrime anche Lorella Cuccarini, era una scommessa, per me è l'emblema del programma, non aveva mai fatto una lezione di canto, ha fatto un percorso in crescita, poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così. Durante la serata Sara ha cantato alcuni dei brani che l'hanno resa popolare e amata dal pubblico di Amici 23, da Sexy Magica a Mappamondo. Durante questa edizione del talent show di Maria De Filippi i telespettatori l'hanno ammirata a cantare in italiano, in francese ieri sera anche in una canzone in lingua spagnola, anche questo brano contenuto nel suo disco appena uscito. Intanto ieri Sara ha saputo già che il 31 maggio prossimo aprirà il festival della Generazione Z al centrale del Foro Italico di Roma.